Buonasera a tutti, grande partita stasera come ultimo match del Girone A tra il Cichita Team e il Deportivo alla Corogna con il sonoro risultato di 8 a 7 per il Cichita Team e qui con noi tutta la squadra, ma anche Luigi Aladiana Man of the Match oggi con un sonoro poker, complimentoni Grazie, grazie ai compagni Una partita veramente incredibile, primo tempo 4-1 per voi, partita splendida, azioni veramente... 4-2 Non correggerai Non è 4-2, azioni che in questo campionato finora ben poche volte avete fatto, quindi oggi veramente una coralità incredibile nella vostra squadra Secondo tempo, grazie anche comunque alla bravura di un avversario in particolare di Andrea Ravalli, avete rischiato davvero di perdere la partita Sì, complimenti a Ravalli, che ci ha messo in difficoltà soprattutto nel secondo tempo, però penso che abbiamo fatto una grande gara e abbiamo meritato la vittoria, dedico questo premio a tutti i miei compagni, per cui ho condiviso questa vittoria e spero di arrivare in Champions League con loro e meritano questo trago Sì, è stata sicuramente, come hai detto tu, una buona partita, però proprio la difesa nel secondo tempo ha avuto troppe lacune, anche il vostro portiere magari non ha, diciamo, dato, ha arrivato a un certo punto massimo sicurezza, ma comunque l'importante alla fine è stata la vittoria Purtroppo abbiamo il nostro diventatore centrale, guardo, che è la pecca della squadra, purtroppo ci teniamo lui Spero che il DS faccia qualcosa della campagna acquisti e lo mandi a casa Il mercato arriva presto quindi allora Sì, sì, vittoria dedicata a tutti i miei compagni Comunque metto a vittoria meritata Dedicata a tutti i miei compagni Purtroppo è assente oggi, lo salutiamo Grande campagna Andrea Non mi direi più, Andrea Mi fanno in giocare a pochi, Andrea Va bene, grazie al Cicchieta Team, complimenti ancora per la vittoria Marco Rossi e Migliaccio Comunicazione del Deportivo alla Carogna è in silenzio stampa, quindi ci vediamo mercoledì col Girole B Grazie Grazie Grazie